sii forte, sii perfetto, sii efficace, non essere sempre un bambino, non fare il bambino, non vivere, non esistere, queste sono alcune delle cose che noi abbiamo assimilato nella nostra vita magari, sin da quando eravamo piccolini e ci siamo portati dietro nella nostra vita. Ecco a voi queste sono le ingiunzioni e le controingiunzioni, che cosa sono queste ingiunzioni e controingiunzioni? Sono delle frasi che noi abbiamo ascoltato, percepito e che si sono attaccate, assorbite, incollate a noi e ci influenzano la nostra vita. Come? Ad esempio se sei stato influenzato dal sì forte, non mostrare la debolezza, quello ti porta nella vita ad essere sempre forte e non essere mai una persona che dimostra la sua debolezza, la sua vulnerabilità, la sua difficoltà e non chiederai mai aiuto al prossimo per essere risollevato mai in una situazione, cercherai di fare tutto da solo, cercherai tutto di trovare le tue soluzioni, di non chiamare nessuno, di non essere una persona che si impegna a magari prendere una responsabilità, di chiamare qualcuno per farsi aiutare, piuttosto resta nel suo dolore, nella sua sofferenza, nel suo problema, per tempo, tanto tempo, al punto di diventare anche cronico, ma non molla, resta lì e questo è il rischio estremo, è il rischio estremo un po' che ti porta magari a malattie croniche appunto, a dispiacere i cronici e a crepare. Quindi questa cosa qui di capire quelli che sono state le nostre influenze, le nostre ingiunzioni e contro-ingiunzioni che abbiamo assorbito da quando eravamo appena nati e abbiamo percepito, far sì che ci permette di non vedere più questo copione, questo modo nostro di intervenire come un bisogno, come qualcosa che bisogna rispettare, ma lo capiamo, lo accettiamo e lo possiamo anche perdonare, diciamo e accettare, comprendere e passarci su. Sì, due parole, direbbe uno, cioè, valla a fare. Ok, quindi questo lavoro qui non è una cosa che si potrebbe fare in due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto colloqui, magari si potrebbe fare o si potrebbe fare solo in un colloquio, si potrebbe fare in un minuto, si potrebbe fare in un teravita, non lo so, ognuno dipende dal punto in cui si trova, riesce poi a intercettare quelle che sono le sue difficoltà, le sue esperienze di vita che lo tengono legato e a fare uno switch magari nel superare quel tipo di blocco. Quindi questa cosa qui non è che è uguale per tutti e non c'è una pillola per tutti quelli che oggi hanno un blocco, per questo non mi sembra sensato promettere che noi o altri e altri professionisti della relazione ma anche chi si occupa di, a livello terapeutico, promettere delle pillole, come si dice, delle cose che permettono a tutti quanti in qualsiasi situazione di risolvere una situazione, di risolvere un blocco. C'è molta personalizzazione, c'è bisogno di molto ascolto e di introspezione, esplorazione e poi di pratica, molta pratica, cioè senza troppo grogiolarsi nella profondità dell'analisi, ma bisogna veramente poi iniziare a cambiare le abitudini di vita che ti permettono di fare l'altro passo, cioè ti permettono di percepire diversamente. Perché un mondo di percezioni è quello che noi andiamo a fare. Ora, mi hanno detto che io parlo troppo filosofo, in modo troppo filosofico, cioè infatti potrebbe essere una cosa molto filosofica quello che sto dicendo, ma sto spingendo prima il concetto filosofico per poter poi dirti che cosa potrebbe tornarti utile a livello pratico fare, cioè a livello pratico fare è utile prendere consapevolezza, iniziare a prendere consapevolezza che vuol dire iniziare a renderci conto di tutte le cose che facciamo, ripetiamo e continuiamo a fare come un criceto che gira dentro la stessa ruota e non ci permettono di uscire fuori da quella ruota. Quindi per renderci conto di quello che abbiamo costruito, che abbiamo nella nostra vita, che gira intorno, 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 già è un altro pratico per poter iniziare a prendere in mano la propria vita. Per fare questo come si può fare? Si può fare attraverso analisi, si può fare attraverso terapie, si può fare attraverso colloqui, si può fare attraverso esperienze di vita, si può fare attraverso un'arte, si può fare attraverso un lavoro, cioè ognuno ha poi i suoi modi per trovare quel modo suo di uscire da quel tipo di situazione. Non è mia intenzione portare una sola via o una sola possibilità di uscire da quel loop, anche se ci avrei personalmente un'idea di come si può velocizzare questo processo, visto che comunque negli anni l'ho vissuto e sperimentato alcune cose superate e ne ho provate di tutte e di più, cioè ho provato tanti approcci, tante metodologie, tanti tipi di soluzioni che ci sono per poter uscire da questi tipi di loop, chiamiamoli loop, cioè percorsi che si ripetono, un cane che si morde la coda, quindi posso dire qualcosa rispetto a quali sono i processi che ti possono velocizzare nell'uscire fuori da questa situazione partendo dal prendere consapevolezza. Uno delle tante cose che ti posso dire per iniziare a prendere consapevolezza delle nostre situazioni che si ripetono nella vita e delle cose che ripetiamo per delle ingiuzioni e contro-ingiuzioni, cioè ingiuzioni possono essere quelle che e contro-ingiuzioni abbiamo ascoltato sin da quando eravamo piccoli, direttamente o indirettamente, ad esempio sii sicuro di te, sii forte, sii generoso, sii sempre gentile, sii sempre buono, oppure non essere capriccioso, non dire di no, non ribellarti, non essere... Cioè tutte queste cose che ci hanno detto, ci hanno chiuso, in poche parole, incastrato in una personalità molto bloccata, ok? E questa personalità molto bloccata, questo nostro stato molto bloccato poi ci limita anche a livello professionale nella nostra vita, nel nostro progetto di vita. Quindi una delle tante cose per poter iniziare a prendere consapevolezza di tutto ciò è iniziare a, innanzitutto, scrivere quello che noi pensiamo continuamente di noi stessi, delle cose che ci hanno potuto e delle cose che ci portiamo dentro, di queste ingiunzioni, se trisona qualcosa di quelle ingiunzioni che ho detto contro-ingiunzioni, scrivile e prendere consapevolezza da dove arrivano. E poi un'altra cosa che potrebbe già tornarti utile è permetterti di essere quella parte che hai sempre evitato di mettere in pratica per l'ingiunzione, la contro-ingiunzione che hai avuto nella vita, che ti porti avanti nella vita. Quindi permetterti di fare quell'azione che molte volte è un'azione che negli altri ti dà fastidio, ma è proprio quell'azione che tu non ti permetti di fare. Quindi quell'azione che sicuramente è il contrario della tua ingiunzione introiettata è quell'azione che di solito ti dà fastidio negli altri, vedere, sentire, ascoltare. È quell'azione lì che gli altri, vedendoli, ti fanno percepire questo fastidio. È proprio l'azione che ti sta impedendo di esistere, di farla vivere in te. Ed è proprio quella che a volte bisogna permettersi. Quindi se c'è stata un'ingiunzione dove ti hanno detto sii sempre serio, sii responsabile, non essere bambino, permettetti di fare il bambino, la bambina. Questa è una delle tante cose che ti invito a sperimentare. A giocare come un bambino, se l'ingiunzione è quella che ti hanno dato di essere sii grande, sii responsabile, sii adulto sempre. Una cosa che alla fine pure io me la sento personale, nel senso che quando ero bambino mi sono sempre reso conto che adesso, ultimamente, negli ultimi anni, ero il bambino responsabile della mia famiglia. Cioè ero quello che rispetto agli altri era responsabile, era maturo. E quindi c'era questa forma di ingiunzione di dirmi sempre sei, sii così, sii così, sii così. E che mi ha portato ad essere troppo serio magari, ad essere troppo responsabile per quello che serve nella vita. E esagerare e non permettermi magari di fare un bambino, di sbagliare, di giocare, di sporcarmi, di fare cazzate, di uscire fuori, spensierato. Questa cosa qui mi sono reso conto negli anni, perché non è che l'abbia scoperto da un giorno all'altro, da quando ho 19-18 anni che ho cominciato a farmi, a fare un percorso, diciamo, di crescita, non la chiamerei di crescita, di esplorazione, di consapevolezza personale. Perché anche la parola crescita personale a me fa schifo, perché qui nessuno può dire che facendo questo sta crescendo. Cioè, che deve crescere. Qua c'è solo da prendere consapevolezza. Cioè non c'è da crescere, da diventare più grande. C'è da essere quello che si è e c'è bisogno di prendere consapevolezza di quello che si è. Questa è una cosa molto importante che credo sia necessario iniziare a parlarne nel panorama della formazione, della crescita, del mindset, dove tutti quanti parlano di crescita personale non si rendono conto che qua non c'è niente da crescere. C'è semplicemente da prendere consapevolezza. Quindi, tornando alle cose pratiche che potrebbe tornarci utile per poter sperimentare già un piccolo sblocco nella nostra vita è vedere, stilare, scrivere quelle che sono le nostre ingiunzioni e contro-ingiunzioni che ogni giorno viviamo. Magari sotto nel video nella descrizione lascio un approfondimento con un documento di quelli che sono le ingiunzioni più comuni e le contro-ingiunzioni così se ti risuonano puoi lavorarci già e poi permetterti di fare il contrario e vedere che cosa succede nella tua vita che cosa senti e che cosa si sviluppa. Se questa cosa qui vuoi parlarne di persone con me sappi che io faccio un percorso di accompagnamento con chi si vuole prendere la propria vita in mano come essere umano ma anche come libero professionista come start-upper perché mi sto concentrando di aiutare chi con chi ho più feeling marketers con chi perché marketers sono stato e lo sono da tantissimi anni con chi ha fondato delle imprese quindi start-up start-upper come me che hanno fondato e hanno creato e negli anni hanno sviluppato una mentalità da start-up quindi con chi è più affine a me penso di poter tornare utile poter contribuire nel aiutarli in periodi in cui c'è bisogno di di supporto come coach come counselor come mentor chiamiamoci come vogli chiamiamo chiamatemi come ca volete ma quello è quindi ti saluto questo è tutto ciao